Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi vi porterò un effetto con le carte Quindi spero vi piaccia Iscrivetevi al canale Lasciate un like e un commento sotto Con che video vorreste vedere la prossima volta Quindi let's go Eccoci a questo effetto Faccio il cremato tutto normale Diverso Andrò a fare una selezione di una carta Tipo questa Che è il giochi di picche Ok Adesso qua faccio un taglio Ho anche una mischiata Così Adesso faccio vedere che la carta non è in cima Cioè la donna dividi i quadri E non è neanche qua Ma se io scopro le dita La donna si trasforma in giochi di picche di ricche E non è E non è E non è